ciao a tutti oggi prepareremo la treccia di pan brioche riviena di mermellata il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore 30 minuti circa ingredienti sono latte lievito di birra fresco zucchero farina di tipo doppio zero farina di tipo manitoba olio extravergine d'oliva uova sale granella di zucchero e marmellata diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero il lievito e il latte vediamo con il coperchio il misurino riazioniamo il bimbi per un minuto a 37 gradi velocità 3 aggiungiamo le farine l'essenza di arancia o di brioche l'olio l'uovo e il sale chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo impastare per tre minuti a velocità spiga l'impasto è pronto trasferiamolo in una ciotola precedentemente unta con olio copriamola con un canovaccio e lasciamolo lievitare per almeno un'ora l'impasto è ben lievitato adesso lo stenderemo su una spianatoia con l'aiuto di un mattarello formeremo un rettangolo che divideremo in tre parti uguali per aver diviso l'impasto in tre parti adesso andremo a posizionare la marmellata chiudiamo delicatamente l'impasto formando dei cilindri ok A questo punto spennelliamo con un tuorlo d'uovo mischiato con un pochino di latte. Completiamo cospargendo la treccia con granella di zucchero. Trasferiamo la treccia su una teglia e lasciamola lievitare per altri 30 minuti. Trascorsi il tempo adesso cuoceremo a forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti circa. La treccia di pan brioche è cotta. Lasciamola intiepitire prima di servire. Treccia di pan brioche ripiena alla marmellata. Grazie e alla prossima ricetta. La treccia di pan brioche ripiena alla marmellata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.